In campo stavolta un movimento riscatta, altra agricoltura, comitato, noaste, donne per l'agricoltura, tutti insieme oggi in piazza Gramsci per intestarsi ancora una volta una battaglia per la sopravvivenza e il comparto agricolo, oggi come non mai in grosse difficoltà per l'indifferenza di istituzioni governiche dalle promesse non sono mai riuscite a passare alle vie di fatto e il presidio verrà smontato solo quando queste risposte arriveranno. Vogliamo chiamare alla responsabilità la politica che in sintesi dalle promesse questa volta dobbiamo passare ai fatti perché la crisi continua a macinare, la crisi agricola in particolare, continua a macinare vittime, continua a svendere interi patrimoni e territori alla speculazione delle aste giudiziarie e da qui vogliamo ripartire con le promesse che allora ci hanno fatto e da quelle promesse non andremo via da qui se le promesse non si trasformeranno in fatti seri e concreti. In Piazza Calvario era il 2012, in tutti questi anni è cambiato qualcosa? Sì, è peggiorata la crisi, naturalmente i dati li abbiamo già dati, sono dati che scomportano chiunque, adesso la crisi è entrata all'interno delle famiglie e questa è la dimostrazione che noi abbiamo le mamme, le donne che stanno scendendo in campo per aiutare proprio i mariti che da proprietari di terra, di aziende, molti adesso sono con le aziende all'asta e vanno a lavorare a giornate quando trovano il lavoro. Presidente, parte una nuova protesta di riscatto per Vittoria, altra agricoltura, come amministrazione comunale appoggiate questa protesta? Non potremmo non farlo, l'associazione riscatto, l'associazione altra agricoltura è sempre pronta sul fronte della difesa e della tutela dei diritti dei produttori e non potrà che avere a fianco l'amministrazione comunale ma anche il consiglio comunale che sosterrà evidentemente ogni forma e ogni iniziativa finalizzata ad attirare, ad attrarre l'attenzione in quelli che sono i problemi dell'agricoltura che continuano a vivere questo territorio. Proprio ieri sera il consiglio comunale ha deliberato su mia proposta un ordine del giorno da trasmettere alla presidenza della regione siciliana con cui chiediamo a gran voce e all'unanimità che la regione siciliana possa dichiarare lo stato di calamità. Poco è stato fatto, ma cosa si può fare veramente per aiutare gli agricoltori? Intanto non è stato fatto veramente nulla, purtroppo le tante promesse, le tante assunzioni di impegno sono state tradite tanto dai governi regionali che nazionali, lo dico a prescindere dal colore dei governi che si sono succeduti. Io ricordo che ci sono stati atti anche importanti come quello della Commissione Agricoltura al Senato che ha ricevuto e assunto impegni con una deliberazione formale nei confronti del Governo nazionale per una serie di misure che erano quelle richieste dagli agricoltori dell'intera Italia meridionale, tutte disattese. Fino alle ultime proteste importanti, forti come quelle dell'anno scorso, di questi tempi c'erano migliaia di persone che si radunavano e protestavano. Anche lì abbiamo ricevuto promesse e assunzioni di impegno alle quali non hanno fatto seguito nessun atto concreto. Quindi in realtà la classe politica che non si fa sentire a Roma, oppure Roma ignora veramente la Sicilia e i suoi problemi? Roma e Palermo sono solde per diversi motivi, uno fra tutti però, ed è un vero problema, che non c'è un'adeguata rappresentanza nazionale per questi poveri imprenditori che sono migliaia e migliaia ma ad oggi non vengono adeguatamente rappresentati, soprattutto al sud.